ciao oggi vi faccio vedere come si può dipingere con un cotton fioc proprio questo avete capito bene per prima cosa ho disegnato un tronco d'albero con le matite a cuorellabili asciutte però ho usato due colori per dare l'idea che la luce arrivi da destra e per creare un certo effetto di tridimensionalità ora prendo un cotton fioc lo bagno e guardate cosa faccio parto dalle zone più scure andando verso quelle più chiare e vado a bagnare tutta la carta almeno dove ho disegnato il tronco d'albero seguo proprio le linee che ho già tracciato con la matita più scura grazie a tutti grazie a tutti adesso giro il cotton fioc dalla parte pulita lo bagno e prendo un acquerello rosa vedete è perfetto per fare i fiori grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.